Un pellegrinaggio breve ma molto intenso in occasione dell'ottavo centenario del perdono di Assisi. Papa Francesco ha raggiunto in Anicottero, nel pomeriggio, lo stadio della città del poverello e in auto il sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Qui è stato accolto dal Ministro Generale dei Frati Minori Francescani, padre Michael Perry, ed ha attraversato la splendida infiorata di 130 metri quadrati realizzata nella notte dagli infioratori di Spello, dal titolo Francesco, testimone di umiltà, esempio di pace e accoglienza. Entrato in Basilica, il Papa ha attraversato la navata centrale tra l'entusiasmo dei mille fedeli che avevano trovato posto nel Grande Tempio, fino alla Porziuncola, la chiesetta di 4 metri per 7, la terza riparata da San Francesco, che tanto la amava. Il Pontefice si è raccolto in preghiera silenziosa, contemplando la pala d'altare che narra la storia del perdono di Assisi. Francesco che si getta tra le spine per vincere la tentazione e la visione nella Porziuncola di Gesù e la Vergine Maria, ai quali il Santo chiede perdono e remissione delle colpe per tutti i visitatori della chiesetta e la concessione dell'indulgenza plenaria da parte di Papa Norio III, con l'annuncio del 2 agosto 2016 del Grande Dono al Popolo, ai Frati e ai Vescovi. Voglio mandarvi tutti in Paradiso. Ricordando queste parole, Papa Francesco ha iniziato la sua meditazione commentando la parabola del servo spietato. Qui alla Porziuncola tutto ci parla di perdono, ma quanto costa a noi perdonare gli altri? Questo dice la parabola, come Dio perdona noi, così anche noi dobbiamo perdonare chi ci fa del male. E la carezza del perdono, tanto lontana da quel gesto, me la pagherai. Nel confessionale, ha proseguito il Papa, noi come il servo chiediamo Signore abbi pazienza con me. E Dio non si stanca di offrire sempre il suo perdono ogni volta che lo chiediamo. È un perdono pieno, totale, con il quale ci dà certezza che, nonostante possiamo ricadere negli stessi peccati, lui ha pietà di noi e non smette di amarci. Ma il servo perdonato non vuole condonare il debito al suo fratello. Qui, ha commentato Francesco, troviamo tutto il dramma dei nostri rapporti umani. Quando siamo noi in debito con gli altri, pretendiamo la misericordia. Quando invece siamo in credito, invochiamo giustizia. Non può essere questo lo stile di vita dei cristiani, perché Gesù ci insegna a perdonare e a farlo senza limiti, fino a 70 volte 7. Ci propone l'amore del Padre, non la nostra pretesa di giustizia. In questo anno santo della misericordia, ha spiegato il Papa, diventa ancora più evidente come la strada del perdono possa davvero rinnovare la Chiesa e il mondo. Offrire la testimonianza della misericordia nel mondo di oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi. Il mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore e covano odio, perché incapaci di perdono, rovinando la vita propria e altrui, piuttosto che trovare la gioia della serenità e della pace. Chiediamo a San Francesco che interceda per noi, perché mai rinunciamo ad essere umili segni di perdono e strumenti di misericordia. Dalle parole ai gesti, al termine della meditazione, Papa Francesco ha invitato i frati e i vescovi presenti ad accompagnarlo nei confessionali per essere a disposizione del perdono. Ci farà bene riceverlo oggi, qui insieme, e come il figlio al prodigo, il Padre ci tapperà la bocca e ci abbraccerà. E per circa un'ora ha confessato 19 persone, tra le quali quattro scout, due preti, un frate, un'anziana in sedia a rotelle e diversi volontari. Grazie a tutti.